bella bella amici miei bella 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 amici miei amiche miei allora andiamo a vedere l'xbox game pass giochi inclusi mese di febbraio 2022 questi sono i nuovi giochi vabbè non ve li non ve li leggo i titoli ma li vedete ok ragazzi si possono vedere bene hanno messo dead door fichissimo la trilogia di hitman e rainbow six extraction che davvero ragazzi è una gran figata allora questi sono le novità quelli non disponibili tra posta la control code vein project winter the falconi final fantasy 12 e the medium questi andranno a sparire dal catalogo vi faccio vedere un po velocemente i giochi che ci sono dentro c'è questo qui del fishing di pesci una figata dopo c'è vabbè i classici forza horizon 5 halo infinite e i gears che sono una figata dead by daylight poi vediamo un attimo anche a me piaceva anche dal cannes raga comunque il 35 andiamo un po vedere velocemente perché insomma comunque poi amber questo qui è fico farming simulator è una figata assurda football manager se vi piace il calcio manageriale eccoli qua i gears andiamo a vedere un po anche qualche gioco in anteprima heides ades è figata il hitman come ho dato prima vabbè gli halo el blade e poi dopo ci sono ci sono kingdom hearts lemmings gate è un bel giochino ragazzi un bel giochino la marvel avengers la completa quindi una figata fly simulator se volete andare un po in giro col vostro cesna o con un bel 747 o un airbus perché c'è la par condicio di diciamo tutti dopo c'è questo qui project inter bellino rage 2 molto bello ragazzi stalker che dovrà uscire sarà un gioco spettacolare scarlet nexus vale veramente la pena sea of thieves è diventato un gioco da milioni di persone state of the kai insomma ce n'è per tutti i gusti per tutti i generi e per tutte le età un po di tutto e dai giochi di sparatutto the hunting questo qui di caccia i vari the working dead train simulator 2 bellissimo io l'ho fatto su poi campus 40 euro di gioco risparmiato veramente figo potete costruire il vostro campus è sempre la vita che ha fatto tu poi ho ospita al hotel no e tu point qual era l'altro aspetta ragazzi quella che ha fatto l'ospedale hospital ospedale vabbè 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 world war z zombie e tanta 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 bella roba ok raga quindi diciamo che ci sono tanti tanti bei giochi da poter giocare back for blood questi sono tutti inclusi ragazzi nelle a play nel gold e nel vostro pass 13 euro al mese ragazzi microsoft ci si sta regolando giochi pazzeschi dark soul 3 crusader king che deve ancora uscire fichissimo 40 euro che qua desperados 3 gestionale destroy all humans fantastic evil genius 2 bellissimo ci sto giocando lo sto portando in live è bellissimo dragon quest 2 dragon quest 11 ragazzi fallout 76 far fair changing ties è un gioco presto disponibile veramente figo vabbè forza horizon è il top 54 fortnite for honor i vari ghias chi ha stati che molto bello allo 5 allo infinite vediamo un attimo i vari minecraft fichessimi giurassic world moto gp nico speed nel my time sport è bellino che lui poi ci sono anche giochi un po minori ori è fantastico ragazzi provate il phoenix point molto bello pilars of eternity psiconaut 2 una figata devo portare un sacco di questi giochi sul canale ragazze core molto bello mi è piaciuto un sacco raggi rise son of rome è bellissimo sea of thieves serius sam 4 raga anche questo battlefront big gates spellook roblox questo qui surge on 2 di fare i medici questo qui teiko no tatsuiji good life questo è un botto the gun che bellino the rift breaker molto bello mi piacciono sti giochi dei suoi due titan font siege eccolo qua tu poi hospital vedi che avevano dato anche lui 12 minuti molto bello il grandissimo rainbow six extraction che è veramente veramente difficile sono talmente tanti wear west raga questo 40 euro anche lui è ce l'abbiamo sul pass al day one westland il warhammer 40.000 l'ultimo che è uscito il yakuza like a dragon lo sto portando adesso vabbè yugioh è gratuito e il zuma ok ragazzi di marco drams games c'era tutto il nostro mega pass strafichissimo vi aspetto il prossimo mese il mese di marzo ok ragazzi e ci vediamo con la prossima ondata di giochi che non finiscono più della mamma e microsoft ci regala tutti i mesi compreso nell'abbonamento quindi non regalano niente è tutto compreso nell'abbonamento ma un fior fior di abbonamento è tutto mi raccomando di seguirmi sul canale youtube facebook twitter instagram tiktok e twitch di mettere un mi piace commentate e mi raccomando portate gente sul canale che più siamo meglio è da marco drams games channel con la mitica xbox serie 6 è tutto e sapete che marco drams è no clan war quindi ragazzi seguitemi alla prossima ciao ciao